Beh, insomma, sicuramente abbiamo, come laboratorio, abbiamo partecipato a diverse attività di caratterizzazione che quindi hanno coinvolto tutto il territorio nazionale. Relativamente alle attività di bonifiche, sinceramente, di bonifiche effettivamente svolte, insomma, come laboratorio abbiamo avuto l'opportunità di parteciparne qualcuno, qualcuno in corso, anche di rilevanza, diciamo, nazionale. Tuttavia, ecco, comunque non è ancora un mercato per i laboratori che sta particolarmente florido perché ovviamente incontra la difficoltà delle risorse finanziarie per attuarlo. Cosa è Natura? Spieghiamole, non si è rispettato. Natura è un laboratorio di analisi ambientali che opera in questo settore ormai da diversi anni e sostanzialmente è una società di ingegneria a cui è associato un laboratorio di analisi accreditato a Credia. Insomma, siamo sul territorio comunque una realtà che si muove in tutto il territorio nazionale. Ecco.